Didattica a distanza per l'intera classe al terzo caso di positività e gratuita temporanea dei test di tracciamento. Cambiano i protocolli anticontagio per le scuole medie e superiori con il nuovo decreto legge approvato dal governo. Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l'autosorveglianza con l'uso delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti dal Covid-19 da più di 120 giorni o che non hanno avuto la dose di richiamo. Per gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l'autosorveglianza e le mascherine FFP2 in aula. Con tre casi nella stessa classe invece è prevista la didattica a distanza per tutti per dieci giorni. L'applicazione delle misure, spiegano i dirigenti scolastici, richiede un complesso lavoro sinergico, pertanto l'auspicio è che non vengano introdotte ulteriori variazioni. Forte resta la collaborazione con ATS, con la responsabilità dei genitori, con la responsabilità del comportamento adeguato da parte di tutti gli studenti e di tutto il mondo della scuola. Quindi il dirigente scolastico deve cercare di dare attuazione affinché le strategie di sicurezza messe in campo sia a livello preventivo sia a livello di gestione dei casi positivi renda possibile la presenza a scuola. Persiste tuttavia qualche incognita. Molte altre sono in realtà le criticità a partire dal fatto che per esempio non viene data alcuna indicazione in merito alla gestione della positività nel personale scolastico e soprattutto nel personale docente. Ancora si fa riferimento all'utilizzo delle FFP2 nel caso appunto in cui sia necessario avviare un percorso di autosorveglianza ma non è ancora dato sapere chi fornirà queste FFP2. Fino al 28 febbraio inoltre gli studenti delle medie e superiori potranno fare il test di tracciamento gratuitamente nelle farmacie presentando la ricetta del medico di base o del pediatra. Per questo il governo ha sostanziato 92 milioni di euro.